Ragazzi mi trovo all'interno della mia mappa in creativa, la default Deathrun da 110 livelli, 10 sono extra Stavo gironzolando in quelli che sono gli ultimi livelli presenti su tale mappa e ho visto qualcosa davvero di troppo, troppo strano Ragazzi in alto a sinistra guardate le tre nickname, ho un Martex TV a livello 1001 e non sono io Prima di procedere vorrei fare un mega disclaimer per tale video perché per me è una sorpresa, non so chi sia questa persona, non so chi sia questo player E soprattutto perché abbia cambiato il nickname emulando il mio, il mio nickname reale è proprio quello che vedete in alto Quindi in cima a tutti gli altri player, i Martex i, non c'è nessun altro Martex reale Quindi se dovesse aggiungervi un Martex e ovviamente in quel momento si sta spacciando per me, sappiate che non sono io Non fatevi prendere in giro dalla community perché magari spacciandosi per me e quindi dicendo che sono loro il vero Martex in quel momento Dopo che vi hanno aggiunto potrebbero rubarvi i dati, password e quant'altro È già capitato e io cerco di allarmarvi quindi cerco di tenervi in guardia, succedono ogni giorno queste cose Essendo che magari un Martex livello 1001 potrebbe aggiungervi ed in questo caso non sono io perché attualmente sono a livello 575 Sappiate che, a quanto pare, non è il vero Martex Quindi se qualche giorno di questi un Martex tarocco dovesse promettervi delle cosette non credete a niente perché non sono io Sembra scontato da dire come cosa ma attenzione, occhi aperti ed in guardia Io sinceramente lo vorrei aggiungere questo player e fargli due domande La prima è come ha fatto raggiungere il livello 1001, io sto ancora a livello 575 Non sono più il Martex di una volta ragazzi, non sono più il Martex che non usciva di casa, che non toccava l'erba e non vedeva la luce del sole Non sono più quel Martexone Adesso provo ad aggiungerlo Allora, dovrei averlo qui, vediamo Eccola qui la lista delle persone che stanno giocando la mia mappa Tra l'altro ragazzi, codice qua sotto in descrizione Entrate, espate, cillate, divertite e passiva a tutti i vostri amici È una mappa creata con la creativa 1.0 Quindi proprio vecchia scuola come piacciono a noi le vecchie Detran Vediamo se riesco a beccarlo Ok, Martex TV, eccolo qui Sappiate che io non sono Martex TV, sono solamente i Martex E L'ho aggiunto Aspettate Voglio vedere che cosa accade Mi sa che mi ha già accettato raga Mi ha già accettato Devo andare un attimo al menu principale a invitarlo No, 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 pazzesca sta roba Allora, mi raccomando prima di tornare al menu preferito E mi piace alla mappa Andiamo, no, questa è una sorpresa Voglio vedere chi è sto personaggio Chi si cela dietro al Martex tarocco Adesso lui sarà tipo Ho raggiunto il mio scopo Ho livellato come un porciccio Ho raggiunto il livello 1001 Mi sono fatto notare da Martex Mi sono cambiato anche il nickname simile al suo E finalmente ho ricevuto la sua fantomatica richiesta d'amicizia Invitiamolo Dove sta? Eccolo qua Eccolo qua Altre opzioni Invita nel gruppo Vai, vai, vai Secondo me accetta in tipo due secondi Non si farà sfuggire questa opportunità Vediamo, vediamo Vuoi realmente un pollicione all'insù Perché ripeto È una sorpresa Per me stesso Non so che cosa stia accadendo Ancora non dovrebbe sentirmi teoricamente Vediamo Martex tarocco Ci sei? Ma chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Aspetto che entri nella chat vocale Se riuscirà a farlo Vediamo Io comunque sia sto registrando tale video Però ragazzi Non fatevi ingannare Perché utilizzo proprio questo contesto Per spiegarvi tale situazione A me la cosa diverte Però il tutto potrebbe trasformarsi anche In un qualcosa di negativo Ovvero persone che creano degli account Con un nickname simile al mio E poi vanno in giro dicendo Magari che loro sono il vero Martex Che promettono delle skin E quant'altro Non date nessun dato Quindi le vostre informazioni generali Ma che siano anche quelle dell'account A nessuno ragazzi Ma ragazzi stiamo scherzando Oggi mi vogliono prendere in giro Non solo il Martex di Vitarocco Pure il Simo Mart Il Simo Mart 09 Che è a livello 150 Vabbè ragazzi Ma che cos'è un complotto Later Ragazzi il player ha quittato O ha quittato O mi è eliminato dagli amici Non lo so Ok No però è grave È davvero grave Io sto ridendo Ma sta cosa è molto molto grave Credetemi Later Martex Starocco mi senti Voglio unirmi Ma freddo Pala Esadi Chi sei Chi è scherzo Ma freddo Livello 1000 euro Allora se mi senti Balla No sto sentendo Sto sentendo il microfono Ciao Martex Ma da dove esci Ma da dove spunti Sono il fratello Che cosa C'ho un fratello Quando siamo Alive Bro Allora Ho un po' di quesiti Perdonami Innanzitutto qual è il tuo nickname Reale Cioè chi sei Ti vedo in live Ci sei in chat No non ci sono Quindi sei proprio un fan Siete dei fan Così A casa Cambiamoci il nickname In Martex Sì Come vi chiamate Siete due fratelli Vero Io e Gaetano Gaetano eh Matti Sì Matti Poi c'è Giosuè Mi chiamiamo GioGio GioGio L'altra domanda Legit Ma giocate tutti Sullo stesso account No Come fai a essere Il livello 1001 Scusa Ci siamo swappati Sei tu il vero Martex Sì Ah sì Come vai questa cosa Di metterti il mio stesso nickname Perché ho cambiato il nome Che abbandonava GTA Mi ha messo a giocare a Fortnite È così Hai mai visto in live Mi mette il nome di Martex Così a caso Sì Proprio fanboy Sfegatato Ma in quanto tempo avete fatto Il livello 1001 C'è un glitch È infinito Che fa il livello No Non va bene No Tutto il giornato intero Fino a serie Tempo sempre Che non arriva a limite Da XP Proprio dal capitolo Dal capitolo 5 Ti sei messo a grindare Con i livelli Non diciamo nulla Riguardo a questi XP Glitch di qua Di là Ti sei messo a grindare Dal capitolo 5 No Sì Bro guarda che mi sono impaurito T'ho visto lì nella mappa Stavo oscillando Tra i vari livelli Mi sono trovato Un Martex TV Così livello 1001 Ho detto Che è successo Bro Ma ha nacherato l'account What Da una parte Mi ha fatto piacere Però dall'altra Mi sono impaurito E Calmiamoci un attimino Non si potrebbe fare Questa cosa Perché ti stai spacciando Per me Tipo tra l'altro No buono Vabbè Io comunque Ti ho aggiunto Volevo fare una chiacchiera Con te Velocemente Ti vuoi fare una partita Per me sì Va bene Però mi prometti una cosa Proprio Lo devi promettere Con la mano sul cuore Poi adesso ti sei messo Il tuo Il mio nickname Il tuo nickname Attenzione Ti sei messo Il nickname Uguale al mio Praticamente Cambia solamente Sto TV Che sarebbe quello di Instagram Mi prometti Che se ti dovesse aggiungere Qualcuno Dato che sto nick È praticamente Identico al mio Gli dirai esplicitamente Che tu non sei Il vero Martex No io non prendo Nessuno in giro Va bene E dov'è che siete ragazzi Calabria Allora c'è C'è il doppio Non sai che io sono calabrese Non sai che io sono calabrese No io lo so Che era Roma Roma What What Bro io sto alla mezzia terme Sono tipo a 25 30 chilometri Da te Quindi non lo sapevi Allora doppia sorpresa Per te E doppia sorpresa Per me Vedi Vai invita tuo fratello Che ci facciamo Un game Tra calabresi selvaggi Vai Però non sei un vero fan Del Martexone Se non eri a conoscenza Che sono calabrese Dai Eh ma sei un fan tarocco Sei uno di quei fan Che non lascia like Secondo me sei offeso Ma che sta succedendo Oh no 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 Bro togli ste mappe Togli ste mappe Se devo vedere una mappa in background Deve essere solo la mia Mamma mia Mi sta venendo un brividino Succolino Togli sta porcheria anonima Ma voi giocate con le build O senza build Senza build Bravi Allora dove vogliamo andare Da me questo secondo Andiamo A Tana dai Bro livello 1001 Significa che tu sia Più forte di me Quindi cerca di fare tante kill Ok C'è una volta che perdi Contro i bot Perdi contro i bot Tante volte si No no Con me non si perde Io faccio diventare Gli altri player Dei bot Tranquillo Mi pare che non sia Atterrato nessuno Per di qua Ho sbaglio Comunque sono dal boss Apro la porta Dai andiamo Ok Uh Uh Dai 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 Ma tu Vabbè che è fatta apposta Che non lo riuscirò mai A killare Prima che lo shield Si vada a rigenerare Però Andiamo giù Andiamo giù Andiamo giù Tuo fratello Sì Dagli un abbraccio Da parte mia Lo hai abbracciato Non ti credo Ancora no Devi abbracciarlo Ah io vedo il primo bot Guarda Eccolo All right Ma sono tutti i bot Ragazzi Ma che lobby avete Ma giocate da play Giocate tutti e due da play Sì 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 Da play Posso chiedervi Quanti anni avete Cioè tu dovresti essere Il più grande no 27 27 Sei mio coetaneo Praticamente Adesso si domanderanno Eh ma Martins Ma tu quant'è che ne hai Invece di cruza Eh Eh Segui le live bots Segui il Q&A Che ci sta in live E risponderà a tutte le tue domande Bello mio Però fin quando non guardi le live Mi dispiace Broda vieni qui Guarda Ci sta una telecamera Da raccogliere Ti dà 15.000 punti di esperienza Ah mi dispiace Sei già a livello 1.1 Non puoi expare Però raga Troppi bot E Gamer Pro Ancora si deve shieldare Ah Gamer Pro E tu Beccati sto shieldino Dai Perché non si shielda tuo fratello Ci sono gli shieldini lì per te Niente non gli interessano Ha detto che so ste cose Non li voglio No buono Vediamo come siamo messi Allora Medaglione di stese Non l'hanno preso Gran ghiaccio non l'hanno preso Scalino non l'hanno preso Oh ragazzi Solo a rotaia hanno preso un medaglione Vaiuto vaiuto Una a terra Due a terra Bravissimo Manca il terzo Ok Craccato bro Andiamo Ok Me lo so fatto Gamer pro Arrivo Bello mio E qui c'è la potenza Di tipo 1700 livelli Messe assieme Eh sono alla benza Sono alla benza Ragazzi Una a terra Qua 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 A terra un altro Raga questa la dobbiamo vincere Non mi interessa nulla Proprio aggressivo Con ogni player E' sopra E' sopra E' sopra E' sopra si E' sopra Bravo 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 Mi sa che è last hit Cabo devo anticipare Bene Dannazione E' dentro Colonna cineast E' questo è un altro player Però Missato Mi sa che è un altro player E' un altro team Questo Buona Buona Uh A gamer pro Guardalo E' tutto E' tutto lì Di nuovo Di nuovo John Wick A terra John Wick Qua Bravo che è sceso Mi è piaciuto John Wick Andiamo Secondo me lo stanno restando John Wick Eccolo E' uno qua A terra Un'altra a terra Bravo 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 Sotto da me Nel ponte Annaggia John Wick Oh raga Ma sti nunciaco Oggi Mamma mia No Gamer pro Me l'hanno atterrato 110 Qua bro Ecco E' per di qua bro Da me Ha preso il bagno No E' nel condotto Dai Dai Fammi sentire Sti mille livelli Dai Vai Intanto Resta Bravo Adesso mi arriva Una cecchinata in testa Stanno restando Stanno restando Dietro di noi Eh ma bro Ci crepano Ci crepano Andiamo via Andiamo via Ci crepano Questa moto Toglie 5 Appena si chiude Aspettiamolo in safe Ok Da dove t'hanno fatto Vai via Vai via Vai via Riesci ad andare via Ok quelli lì Sono morti tutti Hanno aspettato lì Mannaggia Ok vado via Mi stanno pushando No pure da sopra Dai No Da sopra Mi hanno tirato Una cecchinata In snipe In testa Dai Cartoffel Ma mi posso far killare Da uno che si chiama Cartoffel Ragazzi Ragazzi Ci siamo portati a casa Una vittoria reale Ma purtroppo Si sono reso conto Di aver registrato L'intero videozzo Almeno La seconda partitozzo Dove abbiamo vinto Con l'audio del microfono Mutato Quindi Sperando che tale video Sia stato di vostro gradimento Noi ci becchiamo In un prossimo videozzo Ma tuttina Siamo al vostro Martexone Come sempre Qui alle 7 Se ancora non siete iscritti Mi raccomando Distruggete Come sempre Il bottoncino rosso Qua sotto E quindi il tasto Iscriviti Fate uscire un pochettino Di Coriandoli dappertutto E a prestissimo Un salutone da parte mia E come sempre Un bel SIA BROTHERS SIA BROTHERS SIA BROTHERS